All'incontro di questa mattina l'ANAS, l'ente competente sulla statale 163, ha presentato il suo progetto che consentirà di ripristinare la viabilità entro tre mesi di lavoro e 3 milioni di euro. L'intervento si dividerà in tre fasi. Una prima fase prevede un'analisi radiografica di tutta la parte interessata dall'intervento. Appena la zona sarà considerata sicura si procederà all'installazione del ponte e soltanto in una terza fase sarà possibile effettuare la messa in sicurezza totale. L'ammasso ha distrutto gli archi borbonici presenti. La soluzione dell'ANAS riguarda la realizzazione di nuovi piedritti in calcestruzzo armato. Già pronte le prove e diagnostiche con delle sottofondazioni sulla roccia compatta. Ci alziamo con i piedritti e poi faremo un impalcato con una struttura metallica con travi da 16-18 metri, già studiati in moduli da 6 metri facilmente trasportabili e componibili sul cantiere. Quello che si chiedono tutti è anche i tempi. Quando potrebbe presumibilmente riaprire la statale alla circolazione? Nel caso di ANAS noi abbiamo già la copertura finanziaria, abbiamo fatto subito la copertura finanziaria, abbiamo attivato già la progettazione e tra l'altro non dobbiamo fare manco gara perché abbiamo già l'impresa pronta a partire perché siamo in regime di accordo quadro, quindi abbiamo già delle imprese selezionate con gare europee, quindi in regime di accordo quadro, quindi già volendo se abbiamo tutte le autorizzazioni e quant'altro già da lunedì potremmo partire con le prime lavorazioni. Finire? Il tempo stimato, se noi possiamo lavorare in sicurezza, chiaramente il comune deve mettere in sicurezza il costone, è stimato in tre mesi di finire l'impalcato, tutto l'impalcato e riaprire la viabilità. Ad illustrare l'intervento è stato questa mattina nel corso della riunione anche il presidente della commissione trasporti della regione Campania, Luca Cascone. Jonas ha già sviluppato un progetto praticamente esecutivo, è pronta ad iniziare i lavori già fra qualche giorno appena le attività della magistratura si completeranno, hanno stimato due mesi e mezzo di lavoro, massimo tre, ovviamente dobbiamo raccordare tutto con l'intervento da parte del comune per ripristinare la viabilità comunale che è nella zona sovrastante la strada. Abbiamo sentito una prima stima provvisoria a 3 milioni di euro. Sì, questa è la valutazione di massimo, ovviamente 1 milione e 100, 1 milione e 2 per realizzare la nuova strada, quindi il nuovo impalcato che consentirà di ripristinare la viabilità, circa 3 milioni per mettere in sicurezza la frazione alta di Amalfi, ovviamente con il ripristino dei sottoservizi e di quella strada interpoderale che consentiva ai cittadini di accedere a casa. Serve il commissario? In questo momento serve innanzitutto lo stato di emergenza, perché questo consente tutta una serie di velocizzazioni nelle procedure, per esempio di rilascio dei pareri. Dal punto di vista del commissario oggi abbiamo l'ANAS pronta a partire, quindi andiamo avanti speditamente e poi valuteremo se per l'attività del comune serve anche il commissario.